bella a tutti raga oggi siamo ritornati qui con un nuovo video allora a volte come avete visto il titolo andremo a fare una delle mie giganti che fa il pano che io ando a Svizzera infatti voglio andare a fare anch'io infatti ho comprato due di queste è una colla antica pesca e una due di queste però andremo a usare questa e questa qua che è in mezza quindi andremo a usare una schiena da barba intera in mezzo poi la colla prima o trasparente la colla a scuola da scioccoli tridunica una ciotolonna che ho comprato ieri questa ciotolonna che ho comprato ieri con coperchio e poi ho chiesto di coperchio che serve per la slime per un secale perché non sarà questa la scioccolina per un secale comunque direi di incominciare noi andremo a caso con gli ingredienti a caso noi ci avvantaggiamo con la colla e ci vediamo dopo ok ragazzi abbiamo messo la colla a scuola adesso andremo penso a mettere tutta la colla a prima trasparente perché ne è poca ma tutto? non lo so penso che si vabbè mettiamole così perché è troppo non va bene ok ragazzi guardate vai ok poi andremo a fare il blu colore di blu no questo qua non è blu questo qua è viola e ne fa io oh ma era blu oh ma era blu aspetta aspetta iniziamo a mescolare inizia ad aprire un'occhio del colorante questo qua non basta e aggiungi le altre due o tre cuccioli solo due un quattro e due o due o tre non ce l'ho scelto la grazia sì ma e va ok voglio fare di un bel viola quindi accendendo le altre voci voglio che ci vedete qualcosa no io direi le altre però aspetta non ce l'avvantaggiamo noi ci vediamo dopo ok ragazzi ci siamo avvantaggiati l'avvantaggiamo aspetta scusate perché mo ci andiamo ad aggiungere anche la schiena barba che fa diventare ancora più bianco oppure c'è più chiaro andrò a mettere tutta questa oh mio dio perchè c'è tutta questa? che buissima oh mio dio basta no tantissima c'è un problema perchè così è la ricetta vero gigantesca ok iniziamo a mescolare che bello aspetta tina come si chiama il segreto di questa ricetta è che non dobbiamo andare a schiacciare lo slime e lo dobbiamo far riposare ve lo dico un po' per quanto dobbiamo far riposare perché non mi porta bene per una settimana penso vabbè ragazzi ve lo dico dopo serena ma aspetta verrà gigantesca hai visto? questa è colore e poi ti vada poi penso che ce ne metti no non so sarà gigantesca è finito dove è stanta la tua testa non possiamo dare la prossima è duro sei attento io ci metto questo è stantata serena noi ci vediamo dopo ok raga perché non è stantata gigantesca serena sarà di 2 kg questo qua è di 2 kg è ancora più gigante come la luna come la luna sì vai è io che ci volevo andare a mettere due cose di scimare e barba figurati basta troppa schiuma sono felicissima ho pronto molti sì il colore non è e dici altro colore perché non sei sì tutto dove sta? dove sta il colore? serena 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 basta scusa sono bello che non scende perché non scende perché è finito il muscolo sì abbiamo finito un coso un colore un secondo perché non è perché la zampa serena è finito sì grazie per questo se mi sono state per forza è la terza che non pensi che mi sono scuola poi ragà penso che farò sì farò un altro video quando penso che fare un altro video quando si era assestato perché poi devo fare tutto il bollicino e sarà bellissimo sarà un fluffy crunchy non un fluffy crunchy non so come siamo però sì ma che dici più enorme o va bene va bene troppo sicura sì ma penso questo po 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 ok raga io cerco la barba il triplo della colla quindi se non c'è densa provare un altro po di volo ma però vedo che si sta pensando però malamente se ne stai facendo ah beh raga quando si è stessa quando si è stessa ci vediamo dopo raga allora ho deciso di andare a sbattare le mie mani si è sbattata le mie mani perché sarà difficile perché ti vorrei schiacciare ok ok bullying vai altro sci-tobolce grazie basta è arrivata sta finendo per imparti mica dura per sempre ma intanto ho comprato la bustina nuova che funziona guardate la sedia funge la sedia funge raga è morbidissima nella nuvola solo questo vero è percivoso e più di tanto non si allunga c'è fatto di mattina ciotola ragazzi di mattina ciotola di mattina ciotola vabbè ragazzi noi ci vediamo quando si è raddensato si no prima il pallino questo qua vedi oh aspetta questo qua con le due linee oh aspetta questo qua con le due linee si non sono le due linee suuuu scemo vai 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 prima no vai vai no aspetta vai vabbè faccio ok raga guardate qua lo slum si è adensato faccio stare le mani sporche una serena è normale che si è piccola che lei non le tocca mai dai eh ci sentite eh no stai per cadere e non te l'ha fatta un buon anno serena e dai non fare troppo però ci sto mettendo ok quindi speriamo che il video vi sia piaciuto noi diamo un bacio e un abbraccio al prossimo video ciao